Sto iniziando a registrare, per voi va bene? Sì, sì, per niente No, cinque kill, ma da qua? No, se vede Gabriele ci rimane malissimo Beh, prima butto via lo scar e mi prendo questo qua A caso poi? Non fatti No, non ho registrato quando facevo il giro tondo Tipo lui mi sparava, io li correvo in giro Ha finito tutti gli scolpi dello scar No, ma era troppo epico Finito i colpi Ma lì c'è uno o no? Io non ho ancora capito Ora quello di adesso Ah, laggiù, 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 laggiù Non ci credo, l'ho atterrato Ma che cazzo succede? Ma come? Dove? Cristiano è visto il negozio accendendo Eh sì, ho visto Ma che cosa sta succedendo? Che cazzo sai fa? Che cazzo sai? Sai, li ho fatti fuori? No, vabbè No, ma io di solito faccio cagare a Fortnite Uh, pistola Le scude Ho preso un colpo E' il bello che tutti mi dicono Per vincere Fortnite devi essere un maestro delle costruzioni Eh A me basta una magnum 239 metri Ma come? Che cazzo so io, boh? Andavo in panico Ne ho visto uno Anzi, in tre erano Io chiudo anche la porta così Eh, ok Se ti fai più di 12 kill io me ne vado No, eh, sì Più di 12 Magari in tutta la vita forse Sì, non me ne vado i 12 kill Se te ne fai almeno 10 Uh, qua, qua, qua Cosa? Fermo munizio Ah, boom, sì Munizioni della pistola Mi servono Lag Che vuole la minigun? Però i colpi sono miei Eh, non è meglio se lo diamo a quell'altro Non vuoi la minigun? P Pombo leggendario Ah, due addirittura Tipo tutti quanti con lo scar, no? Che vanno a fare i figli in giro Arrivo io con la magnum Oh, solo quello già No, però l'ultimo è che l'ho fatta col cecchino Sì, sì, tranquillo Dov'è? Su quella montagna A 346 Ah, lascio No, non mi si occupa No, sono scesi dalla montagna Ah, no, eccoli, eccoli Uno non ci spuglio Sembra lì della montagna Quello sta andando in panico No, l'avevo sfiorato No, di poco ne facciamo sette di kill Io non sei No, ma veramente Sei kill, madonna Tra l'altro non è Erano tutti quanti con le armi Io di solito le kill le faccio la maggior parte delle volte Quando sono tutti disarmati Cioè, all'inizio partita Aiuto Vieni Daniel Non ci sappiamo, vieni Dai Perché? Perché in questo qua È una situazione brutta Ho messo la jump Sì, ci so Dove? Non è rompere No, l'hanno distrutta Jump, corri Eh, l'hanno distrutta Siamo cagati Sapevo io che la mia fortuna doveva finire prima o poi No Non stare fermo Eh, sì, vabbè Eh, sì, ciao Boom, però sei kill meritato Sei kill però meritato Contro di tre, vabbè No, ma è bruttissimo ammazzarli così No, ma è bruttissimo ammazzarli così Ciao a destra Lì, è dietro Lì, è dietro Ma come cazzo fate a fare così? Bevi le scudo se le hai No, terzi siamo arrivati Come 12 kill a testa? Come è sta cosa? Questa è 12 kill in pelle Eh? Ah, mi ha la data l'illuminazione con la pistola Ma cos'è sta? Ma non mi sono Pass battaglia al 24 Due livelli in un colpo Perfetto E che sta qua?